Giovedì 29 novembre ben ritrovati su Vercelli Web TV. La 34esima edizione del Natale a Casale Monferrato, ricco palinsesto di eventi in programma fino al 13 gennaio 2019 in città, sarà realizzata grazie alla collaborazione tra il Comune di Casale Monferrato e Energica SRL. Grazie alla partnership con la società, partecipata indirettamente dal Comune, verranno installate luminarie per la città e per le sue frazioni, ma verranno anche organizzati eventi musicali. A questo si aggiungono, come ormai abitudine, gli eventi culturali a cura del Comune, al Castello del Monferrato, alla Biblioteca Civica, al Museo Civico e in altri contenitori. I concerti organizzati nelle chiese, in altri luoghi della città, i mercatini per le vie del centro, la pista di pattinaggio in Piazza Mazzini e gli appuntamenti curati dalle tante associazioni di volontariato che operano sul territorio. Presentate anche a Vercelli stamane le iniziative per il Natale. Sentiamo. Un altro Natale con tante iniziative supportate dal Comune di Vercelli. Sì, è stata un'organizzazione congiunta, come al solito, con molti partner privati e anche le associazioni ASCOM e Confesercenti e anche col diretti. Le iniziative sono davvero tante. L'obiettivo era quello di unire il più possibile tutta la città e in questo, secondo me, ci siamo riusciti. Ci sono iniziative ovviamente in centro, ma sparse un po' in più vie e in più luoghi della città. Abbiamo unito tutte le richieste che sono arrivate in un unico cartellone. La novità di quest'anno sarà la filodiffusione. Nel centro storico ci sarà questa filodiffusione che, secondo noi, renderà veramente l'atmosfera del Natale. E per Capodanno avete già in mente qualche cosa? Capodanno ci sarà il consueto concerto della Camerata Ducale, che ormai è una tradizione, e, come è accaduto in questi ultimi anni, un concerto in Piazza Cavour con musica dal vivo. E quest'anno in Piazza Cavour ci sarà anche uno spettacolare albero? Questo sì, questo è merito di Atena Trading. A Roma, presso la sede del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, è stato valutato il progetto definitivo della Pedemontana Piemontese, un'opera fondamentale per tutto il territorio vercellese, biellese e novarese. L'opera, che collegherà Masserano con Ghemme e permetterà al nostro territorio di avere un collegamento diretto con l'autostrada 26, attraverso un ponte che unirà la città di Gattinara al comune di Ghemme, si attende da quasi 40 anni. Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici si è espresso favorevolmente al progetto presentato da ANAS, consentendo così la prosecuzione dell'ITER che porterà alla realizzazione dell'opera. Domani è una giornata per festeggiare il primo compleanno delle Case delle Salute dell'Asle di Vercelli. A Santià e Gattinara sono previsti due eventi che focalizzano l'attenzione su alcune delle attività più significative partite nel corso di questi mesi all'interno delle strutture presenti sul territorio. Un modello che si punta ad estendere e sviluppare ulteriormente anche su tutte le altre sedi. A Santià, dalle 10 alle ore 12, gli operatori del Dipartimento di Prevenzione effettueranno la vaccinazione antinfluenzale gratuita agli ultra 65 anni a categoria rischio. Vaccinazione antipremococcica per i soggetti nati negli anni 1952-53. Negli stessi orari l'opportunità di vaccinarsi ci sarà anche a Gattinara. Alle 11 inoltre a Santià è prevista la presentazione dei nuovi infermieri di famiglia e di comunità. A partire dalle 15 presso la Casa della Salute di Gattinara ci sarà un secondo evento all'interno della Casa dove sarà presentato il nuovo gruppo di cure primarie costituito in questi mesi. È stato completato in Comune a Vercelli con il passaggio delle chiavi alla presenza dell'amministratore delegato di Federcalcio Servizi Mauro Grimaldi e del presentente del Comitato regionale Lega Nazionale di Lettanti Cristian Mossino l'accordo di comodato d'uso 25ennale dell'impianto sportivo Luigi Bozzino tra la FIGC e l'amministrazione comunale. Entro la prossima primavera il campo Bozzino tornerà pienamente operativo ospitando anche gli uffici della delegazione provinciale FIGC e diventando anche centro tecnico federale della provincia per formare i giovani calciatori di Vercelli e provincia. Come si svolgerà l'intervento sul campo Bozzino? Allora l'intervento è un intervento misto un pezzo a parte della Federcalcio SRL un pezzo a parte del Comune la Federcalcio SRL intanto lo sta rimettendo a posto da un punto di vista di sicurezza nel senso che sta tagliando erba tutta fa la recinzione dell'area, non del campo ma di tutta l'area che comprende e ristruttura a sue spese l'alloggio del custode che diventerà la sede del Comitato Provinciale. Il Comune invece ristrutturerà la parte sportiva quindi parliamo di spogliatoi e quando le due ristrutturazioni i due interventi saranno conclusi pensiamo alla fine di marzo il campo verrà dato in gestione tramite un bando di gara ad un'associazione sportiva. Si chiama Prospettive ed è il primo progetto editoriale della Casa Editice Branding il libro fotografico con le foto di Andrea Cherchi e i testi di Sabrina Falanga sarà presentato sabato 1 dicembre alla 17.30 al ridotto del Teatro Civico presenterà la sottoscritta. Ed ora un attimo di pubblicità e poi lo sport. Pareggio per 1-1 ieri sera per la sfida per le prime posizioni in classifica del campionato di Serie C in campo per il recupero della prima giornata di campionato la Provercelli di Grieco e il Piacenza di Franzini. Io sono stracontento della mia squadra faccio solo i complimenti è l'ennesima prova importante posso solamente elogiare i ragazzi hanno dato tutto e di più e vi dirò oggi meritiamo la vittoria. C'è stato quell'episodio del gol un po' casuale fortuito che l'ha sbloccata dopodiché secondo me nell'inizio del secondo tempo noi abbiamo rischiato qualcosa non eravamo non eravamo a posto dal punto di vista tattico abbiamo concesso qualche spazio di troppo la Provercelli dopo abbiamo cambiato e siccome siamo andati meglio abbiamo meritato secondo me il punto con il gol del pareggio secondo me molto bello e poi anche con l'occasione clamorosa sul finale che ci poteva dare la vittoria però credo che alla fine il pareggio sia risultato giusto. Per questa edizione del nostro telegiornale è tutto e noi ci vediamo come sempre domani. Grazie a tutti